Ciao a tutti, oggi impareremo insieme tante cose, ma vediamo prima gli obiettivi delle lezioni. Oggi impareremo insieme tante cose, ma vediamo il mio obiettivi delle lezioni. Oggi impareremo insieme tante cose, ma vediamo il mio obiettivi delle lezioni. Oggi impareremo insieme tante cose, ma vediamo il mio obiettivi delle lezioni. Oggi impareremo insieme tante cose, ma vediamo il mio obiettivi delle lezioni. Oggi impareremo insieme tante cose, ma vediamo il mio obiettivi delle lezioni. Oggi impareremo insieme tante cose, ma vediamo il mio obiettivi delle lezioni. Oggi impareremo insieme tante cose, ma vediamo il mio obiettivi delle lezioni. Oggi impareremo insieme tante cose, ma vediamo il mio obiettivi delle lezioni. Il concorso, 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 il il o la responsabile il o la responsabile il o la responsabile responsabile è femminile e masculile e abbiamo cambiato l'articul il responsabile il responsabile il responsabile il calma la più l'impegno in pulsione e funziona l'impegno dependio il trasferimento il trasferimento demande il trasferimento il trasferimento il trasferimento l'entreferimento La pensione La pensione يعni il t'aqoqda al maish Yibakà La pensione il t'aqoqda al maish Ho wani aghud bade kedda kemann xooye Kelema di mafa La riunione La riunione يعni il akhtimaq Gaya min lmeeting Fì il ingles Yibakà La riunione Akhtimaq Toib, kelema li badeha Il licenciamento il licenciamento il licenciamento il licenciamento il bicro il bicro Lo stipendio Lo stipendio Lo stipendio Lo stipendio traversillo Lo stipendio cosaolsca 았atraceğim con l'angono salario salario lo stipendio o il salario lo stipendio czyli il ончano ha presenter All right Perciò Adip ك CHESTO La promozione La promozione C Sharp com continua l'angono promotion promotion pail Taking the employment promosione come quando risp realizar la pensione Guadaniare Guadaniare يعني يكسب يعني يكسب يكسب flus ويقب يبقى Guadaniare يكسب أو يقب وبكده نكون خلصنا الكلمات اللي ليها علاقة باللفورو أو المركاتو دي لفورو سوق العمل تعالوا مع بعض نكمل بقية هدفنا النهاردة يلا نشوف مع بعض طيب دلوقتي خلصنا أول هدف معنا النهاردة هو IMPERAREN Wo Viparolic Reguadano El Lavoro تعالوا نشوف مع بعض هدف النهاردة هو La Regula Grammaticale هنعمل مع بعض النهاردة ومراجع بسيط عن الحاجات اللي خدناها في الحلقات اللي فاتت ونحل عليها شوي طيب تعالوا نشوف مع بعض أول حاجة هنراجع عليها C IMPERSONALA C IMPERSONALA تعالوا نشوف مع بعض قبل ما نبدأ الحل ونشوف الإزامبي اللي معنا تعالوا نفتكر كده يعني C IMPERSONALA كنا بنستخدمها أمتى وكنا بنصرف هزاي طيب C IMPERSONALA زي ما خدنا الحلقات اللي فاتت ان احنا بنتكلم عليها لما بنيجي نقول حاجة INGENERALA مش بنتكلم عن شخص معين يعني أنا مش بوجه حاجة مثلا أنطنيو بيعملها أو ماريا بتعملها بعينها أنا بتكلم عن حاجة INGENERALA لما باقي اقول مثلا في العربي في الطبيعي مثلا بناكل كذا الصبح بنعمل كذا في الصيف بنروح كذا مثلا كده فاحلا بنتكلم عن حاجة INGENERALA مش بوجه حاجة لشخص معين فلما بتكلم على حاجة كده بستخدم C IMPERSONALA كنا قلنا برضو C IMPERSONALA بتتصرف دايما مع ALLATERSA PERSONALA مع الشخص الثالث اللي هو لوي أو لي دايما بصرفها ALLATERSA PERSONALA سواء مفرد أو جما طيب أنا بحدد ازاي سواء ان انا هحط الفعل اللي معايا ده مفرد ولا جما بحدد على اساس الوجيتو اللي معايا بعد الاسباتس بعد المسافة اللي معايا يعني ايه يعني لو الوجيتو معايا مفرد فأنا بصرف الفعل مع المفرد طيب لو الوجيتو اللي معايا اللي هو المفعول جمع أنا بصرف الفعل مع الجمع اللي هو لورو طيب يعني ايه مثلا يعني لو أنا بعد المسافة في مثلا الوينو أو هنا معايا كلمة سينجولاري مفرد يبقى أنا بصرف il tessere il 3e il 5e se lo faccio ilibri 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 come l'apprendere in singulara che è il mufr Eph usare il plurale che è il gamm si rispia della stessa del come contro l'espazio se non è un mufr Inde io ci rispio con il dire il gamm se non è un mufraccato con i gamm perfettati in particolare versare il verbo riflessivo se non c'è il verbo riflessivo se non si traccio con i bambini anche un po'è, un po'è, che c'è più소a dal termine di arşivere e conduttionare il vostro è un po'è. Al touchesi con il vostro termine su, a era un po'è, a un po'è . a un po'è U , a un po'è un po'è un po'è un po'è, a un po'è un po'è un po'è un po'è un po'è. E stiamo parlando la riguardo di Loura sul cosiddetto di tromomisi e con l'ho. Quindi, se passiamo con l'ho e un po'è un po'è un po'è un po'è un po'è un po'è un po'è. C. C 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 Siamo facendo un'altra parte di C e la C è in personale e la C è in personale e la C è in personale. Voi provare un esempio con i più e di più. Tutti dicono che abbolo molto bene. Il capo è un tipo di mangiare. Qui fa comprare è che in pololone sia un mangiare molto bene. I vorrei sapere che in pololone sia un mangiare molto bene. O che fa fare è assolutamente più forte. Questa fariae di questo non lo era da fare un po' più università straordinaria. In Bologna il manner da come mangiare a la terza persona in singulari non ciedere mai le ta ad una signora . . . alla cintillatoria nella cintillatoria 3. 4. 4. 5. 8. 9. 10. non si chiede mai letà letà vini bianchi vini bianchi bere vini bianchi vini bianchi in plural in plural con il ism il ism metto si si i bianchi sempre fredi letà Non uscire di casa in macchina quando nevica. Non uscire non uscire che non uscire di casa in macchina quando nevica. Quando nevica. In questo termine plurale, la storia è la persona in singolare, il osscire che non uscire dire che non uscire di casa in macchina quando nevica. Non uscire che non uscire per il nostro libro in campagnia dormire molto bene perché non ci sono i rimori della città in campagnia dormire molto bene perché non ci sono i rimori della città in campagnia dormire molto bene perché non ci sono i rimori della città in campagnia dormire molto bene perché non ci sono i rimori della città in campagnia dormire con la città in campagnia dormire o plurale la詞 mille più o dal quale è una cosa semplice la詞 mille più buoni in treno via di stile in aereo vorrei dire nel quattro o non fa sapere è molto più qui agita con la artista persona in singolare per non fare qualcosa che si tratta con il gioco Intreno si viaggia più comedi che in aerio Ok, questo è quello che ho fatto con il gioco oggi pubblicare molti più libri che in passato Pubblicare è un po' Io voglio dire che nel momento, nel momento in cui si tratta un po' di più Un po' di più, quindi qui parlà libri Qui si tratta un po' di più Qu'è Lo probato? Qui si tratta un po' di più Qu'è l'ambiente che si ringrazi? Qu'è la tua motore con la tua mia? Qu'è la tua miaドata con la tua mia? Qu'è la tua mia? Qu'è la tua mia? Qu'è la mia? Qu'è la tua mia? Qui si tratta un po' di più Proprio Proprio ci sono proprio in presentazione aggiungo ogc pubblicano multipure impassato questa è la prima questa è la C impersonale diciamo che abbiamo detto che abbiamo parlato in generale la C in personale in singolare in plural in plural questo è il caso che abbiamo parlato dopo il spazio se è il caso 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 che è il caso che abbiamo parlato se è il caso che abbiamo parlato se è il caso la C si è il caso se è il primo se è il caso si un'e C 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 Simplici o il condizionale nel presente. Allora, facciamo pensare a tutti i 4 giorni. La prima cosa è la possibilità nel presente. Se c'è un'ehtimaliato in modo. C'è un'ehtimaliato in modo che c'è qualcosa che succede. Se c'è un'ehtimaliato con me, io uso il condizionale nel presente. Allora, l'ehtimaliato con me è il desiderio. Il desiderio è il ruggimento o l'amore. Ero che c'è un'ehtimaliato. o che voglio fare questo iniziamo a dire che voglio volume under al cinema io faccio il fatto volume che voglio che voglio che voglio fare il righo e mettere il righo in condizionale quando ho scoperto il righo e ho scoperto il righo in condizionale in presenti mi ha detto un po' di fare o un po' di fare il righo o che voglio fare questo prima cosa ho detto possibilità l'altra cosa che voglio fare il presente l'acqua di condizionale ma in condizionale l'acqua di condizionale è il consiglio quando ho scoperto quando ho scoperto si ho scoperto il condizionale semplici l'acqua di condizionale semplici l'arriquesta gentile l'arriquesta gentile l'arriquesta gentile non è un po' di condizionale la cosa non è un po' di condizionale ma non è un po' di condizionale l'arriquesta gentile l'arriquesta gentile marina e io volere fare viaggio in Kruatsia e vicino i prezzi sono passi il domiere marina e io marina one marina e io volere 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 farvi un viaggio in Kruatsia rendi una raga ommoli un po' a presto a faccia in Kruatsia questa stata E se vuol dire il condizionale semplice, ma noi, perché io e Marina vorremmo fare un viaggio in Kroazia. E se vuol dire il mare è stupendo voi venire con noi, voi, il domini di rmaia, venire, io ti con noi. E io ho chiede, ma qui c'è una ricetta gentile, ho chiede, ho chiede, ho chiede, ho chiede. E io ho chiede, io e Marina vorrei a casa in Kroazia. T'è il tutto qui ma noi? member Ma voi, quindi mettiamo in Final Semplice il condizioni semplice, mettiamo in Riste. E ninguém vuol dire con noi? T'è il tutto qui ma Salute 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 I am a piacere molto ma in agosto lavoro Io mi piace Per me piacere È in questo senso Ma mi piace I am a piacere I am a piacere I am a piacere E am a piacere E am a piacere Il mio lavoro Ma mi piace In agosto Poi non posso spendere troppi soldi per le ferie Ma non ho potuto Non ho potuto fare molto in agosto Mi piace Non ho potuto fare Non ho potuto fare Voi fare Ma io in agosto ho potuto fare Ma non ho potuto fare molto in agosto Ma non ho potuto fare molto in agosto Allora 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 in a y zaman murekab tempo composto asasi fi verbo essere o avere l'ainn bin sarrof da avere u esri ma'a zaman il maina più il participe passato esri canet fi il condizionale semplici sarei saresti sarebbe saremmo sareste sarebbero lì bai io sarei tu saresti lui o lei sarebbe noi saremmo voi sareste loro sarebbero can avere avrei avresti avreppe avremmo avreste avrebbero o nel condizionale nel passato avere o essere nel condizionale semplice più il participe passato come per esempio ha visto ogni volta che all'af idé all'aziliare è felice l'aziliare e verbe ovicere la icote l'aziliare è stato effetto che ho aggiungere le ovicere la musica è fixe o a fissi che è un euro come ha l'aziliare or…? e anche i fiali di nascere e di nascere e di nascere quali fiali di prendere l'autorale è una cosa che si chiama la città mettere la città nella città o singolare o 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 per la ricerca di mettere la tua attenzione se non è un giusto o non è un giusto o non è un giusto o non è un giusto con tutti i risultati che stiamo usando la condizionale è un possibilità ma non è un giusto inizia la ricerca ma non è un giusto 3-Considio ma non è un giusto 4-Considio 4-Considio non confirmati o è un giusto è un giusto è un giusto che ci sono stati con la città della città quando gli amici di scrivere un giusto e non è un giusto e il giusto è un giusto è un giusto se non è un giusto se non è un giusto è un giusto è un giusto con la città con la città la città è un giusto è un giusto ma non è un giusto si chiudete usate la condizionale nella città l'accardate è un giusto FUTURU NILBASATO e abbiamo detto come? FUTURU che si tratta di un'immagine di un'immagine NILBASATO quando dicevole che mi dicevole o che mi dicevole o che mi dicevole che mi dicevole che mi dicevole che mi dicevole quando dicevole cosa sia che mi dicevole si ti avano la condizione NILBASATO è stata una forma la condizione NILBASATO tra le condizioni NILBASATO mito erano ilome e la condizione ed è la condizione ma questo l'uso la condizione NILBASATO ma questa condizione NILBASATO e l'altro Siamo iniziando a fare la nostra scuola che sono fatti non confirmato e fattor non passato. Ora vediamo qui ciò che fa con noi, fattor composto e semplici, abbiamo detto che conoscete la scuola dell'amministrazione del tempo e del tempo, il semplici, il composto, il basso e il merocchio, facciamo un po' conoscete con la scuola, abbiamo detto che il futuro composto è un'azienda di meraviglia che si tratta di avere o essere ma non si tratta di avere il futuro semplici ma non si tratta di avere il futuro composto e anche se tratta di avere il futuro composto e il futuro composto è un'azienda di avere o essere perché ci sono i problemi con noi nel futuro composto quindi sarò, sarai, sarà, saremo, sarete, saremmo, saranno avere, avrò, avrai, avrà, avremo, avrete, avranno ebbè essere e avere più il futuro semplici nel futuro semplici più il participio passato ovverà, in questo caso? è ogni volta che vi faccio le domande quindi abbiamo fatto questo poi la domanda è questo e dopo questo eccetera è questo a proposito che abbiamo fatto in Italia ci stiamo in Italia qui la prima faccia che è il futuro composto è il futuro composto e il futuro composto è il futuro composto coci per separare le parole после a questo o quando sperare la lingua italiana mi parà mi mandare in Italia Qui ha detto quando ha insegnato l'Italia, non è imparare. Quindi, inperare, con me. Inperare, con me. Inperare, con me. Qui ha detto quando, con me. Con me. Inizia il primo. Inizia il futuro composto. È vero imperato. E ho mettato il futuro composto. Inperare, con me. Inperare, non è un progetto movimento. Inizia il futuro. Inperare, con me. La lingua italiana. Mi. Padre, mi. Inizia il futuro. Non è il futuro. 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 il nome di ritto, che è mandra, che sarebbe una legge di bado, che diceني anche quando avro imparato la lingua italiana, mi bado mi mandra in Italia. qui è il primo che è la frase del futuro composto avro imperato questo è il primo che è il primo e il primo che è il primo che è il primo che è il primo che è la frase del futuro quando si amavi l'italia si riuscite all'Italia o Bopo ci sarai in Italia il secondo primo è il futuro Simplici mandara vediamo la frase del futuro dopo che è la frase del futuro Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.it 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 Il corso gratuito è www.mesmerism.it Il corso gratuito è www.mesmerism.it Il corso gratuito è www.mesmerism.it Ok? Il corso gratuito è www.mesmerism.it 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 questo è il futuroo Semplice e abbiamo pensato che ci sono tutte le particolari in ogni tempo di ricerca e le facciate di avere e le facciate di essere abbiamo riuscato con questa C Impersonale e il condizionale Semplice o il condizionale nel presente e il condizionale nel passato e il futuroo Semplice e il futuro composto e il futuro composto torniamo a fare la storia Autore Valentina Oseva La madre aveva tre fili Cainte l'om La madre aveva tre fili Tre peonieri o tre guanud Sono passati anni A volte o a volte o a volte il sennino torniamo a vedere cosa succede con i tre fili Scopio Laguerra o che ha avuto a accompagnato sua madre alla guerra di tre fili يعni il-talat-aulad il-talat-aulad umametum cainu fil-harp l'amma badeit il-om a khadet il-talat-aulad u khalletum jistirku fil-harp la guerra Tre soldati un filio a patuto il-nemiko nel-tiello il-un filio walad min-terat-aulad il-majana a patuto يعni darab il-namiko 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 il-nil-tiello patuto il-namiko il-namiko il-n-mari wal-nil-nahiko il-namiko il-namiko il-nil-nil-anino quante figlie aveva la madre dove apprezzo la madre di tre figlie quindi la madre ha accompagnato le tre figlie e i tre figlie alla guerra dove hanno sconfitto il nemico il tre figlie quindi il tre figlie ha portato il nemico amare l'altro a cielo e l'altro a mare a terra jib a wahed a mare il taini a cielo e il talet a terra toj jib aahir suel ma'ena kii sono tornati i figlie dalla guerra يعni minn il rego mann al harb aw rego a amlini zzey una wahed rega zobit wittaini rega bachor wittaini rega kohed petro e quindi abbiamo terminato l'isiturio e anche si è terminato il nostro video come vediamo a vedere come vediamo a vedere il primo è quello che abbiamo fatto è il primo obiettivo il primo obiettivo è il primo obiettivo che riguardano il lavoro il mercato del lavoro e l'eccolo abbiamo insegnato un po' di cose alo capso il amal, tani xaga amalneha un piccolo ribasso al grammatica, amalna muraqa sgayara an al grammatica ucaizil si impersonale u il futuro composto e il futuro semplice, u amalna aakhir xaga ma'baad il condizionale semplice e poi il condizionale composto o il condizionale nel basato u aakhir xaga amalneha ma'baad la storia, vi shuv baad al harqa gaya, u yarabbi kuno stefat un hard, ciao ci vediamo la prossima volta, arrivederci